I carabinieri della stazione di Ragusa hanno arrestato ieri un sorvegliato speciale, Davide Di Martino, 35 anni, in quanto fortemente sospettato di furte e tendato furto, oltre a fare da tramite nella vendita di due collane proventi di rapina. Si tratta di un soggetto da tempo nota alle forze dell'ordine per essere rimasto spesso coinvolti in vari reati, specie contro il patrimonio. Prelevata all'alba dalla sua abitazione, l'uomo, sottoposto alle formalità di rito, è stato dichiarato in arresto e sottoposto ai domiciliari. Sul suo capo pendono tre denunce negli ultimi mesi per tre distinti reati. Una rapina a danni di una signora a cui era stata strappata una catena d'oro al collo, un tentativo di furto di rami a Ibla e per ultimo il furto assieme ad altri complici presso una rivendita di tabacchi. In questo caso l'azione delinquenziale era stata ripresa da una telecamera a circuito chiuso installata all'interno della tabaccheria per cui l'uomo insieme ai complici era stato identificato e poi denunciato. Nel gruppo c'era anche una ragazza minorenne affidata alla procura del Tribunale di Catania. Grazie a tutti.